La sconfitta all'ennesima in trasferta del Teramo rende ormai incontrovertibile un dato. La squadra di Dedino gioca un doppio campionato. Uno al Bonolis, esaltante, coinvolgente che per molti versi regala anche quelle trame di gioco che erano il punto di approdo del progetto tecnico estivo. E poi c'è un altro torneo, lontano dalle mura amiche. Questo secondo campionato è sciatto, senza squilli, privo di quella carica agonistica che in realtà il Teramo non ha neppure quando gioca in casa, ma che riesce a superare grazie alla qualità del proprio impianto offensivo. La gara del Rocchi è stato il concentrato in 90 minuti di tutto quello che non va quando la squadra bianco-rossa deve affrontare una partita scorbutica e con un avversario che ha fame di punti. Innanzitutto l'errore individuale o di reparto. Stavolta è toccato a Tomei avere un passaggio a vuoto sul rilancio dalle retrovie, ma nelle partite precedenti, dove l'estremo difensore era stato impeccabile, aveva sbagliato qualcun altro. A Castellammare contro la Cavesi, ad esempio, l'errore è stato di reparto. Poi c'è l'atteggiamento. Molle come di consueto, passaggi fitti, ma che spesso non hanno uno sbocco avanzato. Il possesso palla come stella porare, ma senza cattiveria. Occasioni create col contagocce spesso, frutto del caso. Un pizzico di sfortuna, in questi casi, è anche un ingrediente indispensabile quando le cose non girano come dovrebbero. Ma il Teramo non riesce mai a sovvertire il destino di partite che si mettono male. È evidente che chi ha costruito questo organico ha colpevolmente ignorato l'aspetto caratteriale dei giocatori da mettere sotto contratto. Il tecnico ha delle responsabilità, ma in questo caso anche i direttori sono sul banco degli imputati in ogni caso, che abbiano avallato o no le scelte del tecnico e fatto comunque che non scrimina. In tutto questo, la sovrabbondanza in mezzo rischia di fare scontenti come Mungo, altra pessima prestazione di un giocatore ormai totalmente involuto, o come Viero, scomparso dopo le buone prove che aveva reso. E nello stesso tempo davanti si fa fatica a pensare ad una coppia che possa spaventare gli avversari. Magnaghi ha segnato contro la Cavese, al Bonolis, con la Sicola Leonzio, al Bonolis nel ritorno in Sicilia, con la Paganese, al Bonolis, un gol inutile a Picerno e poi la doppietta corrende. Di fatto mai con una squadra di alto profilo, segno evidente che l'unico attaccante di ruolo è stato poco incisivo nelle occasioni che contavano. Finché ci ha pensato Bombaggi, che ha segnato in qualsiasi modo, le cose sono andate abbastanza bene, ma quando per mille ragioni l'ex Pordenone, che detto per inciso attaccante non è, ha una domenica di astinenza dal gol, ecco che il diavolo giochicchia ma non punge. In trasferta il Teramo è quarto ultimo, nove punti come Casertane e Viterbese e un Monopoli che forte delle sue otto vittorie esterne sta per arrivare al Bonolis. Già, lo stadio di casa, l'unico aspetto che può consolare un Teramo ancora silente, ma a cui l'astinenza dalle parole non ha fatto perdere lo strano vizio di essere inconsistente e fuori dal proprio orticello.